Ciao a tutti, parliamo di Meet e della possibilità di parlare contemporaneamente agli studenti di tutte le classi. Come voi sapete, ogni classe può avere la sua conferenza, ma questa conferenza non è accessibile agli studenti di altre classi, a meno che voi non create un gruppo con un corso con tutti gli studenti al suo interno. Beh, però, Google ha attivato da poco una funzione che ha aggiunto a Meet che si chiama Streaming. Ecco come funziona. Anziché recarvi direttamente nella stanza degli incontri, voi dalla vostra dashboard qui aprite il calendario. Siamo nel calendario, dalla funzione Crea, create un nuovo evento, compilate naturalmente data, ore, eccetera. Potete stabilire anche che questo evento si riferisce fondamentalmente a una classe, benissimo. Ma quando siete qui, aggiungi luogo o conferenza, ecco che si apre la possibilità di aggiungere una videoconferenza. Con questo pulsantino aprite delle nuove opportunità. L'opportunità di cui vi sto parlando è questa, aggiungi live streaming. Copiate il link di questo streaming. In pratica, che cos'è lo streaming? Lo streaming è la possibilità di parlare, oltre che agli alunni del corso di riferimento di questo evento, anche a tutti quelli che hanno il link e si possono connettere e che ovviamente sono interni all'organizzazione, cioè al dominio bodoniparavia.it, quello della nostra scuola. Però vedete che in questo modo voi potete contattare e parlare, diciamo così, a tutti gli studenti delle vostre classi. Quelli che dispongono dello streaming, in realtà che si connettono a streaming, quindi quelli che non fanno parte della classe che avete selezionato, degli studenti che avete invitato direttamente, in realtà non possono intervenire, però possono ascoltare. Ma questo è un buon sistema, per esempio, per dare un appuntamento generale a tutti quanti e fornire delle indicazioni per tutti. Poi vi recate nella classe di riferimento e quindi create il solito materiale o compito, quello che è, inserite il link, comunicate il link anche alle vostre altre classi, ai vostri studenti, nel modo in cui preferite e alla data stabilita tutti si potranno connettere e ascoltare quello che avete da dire. E questo è tutto.